Continua ad avere successo la manifestazione di Castelfranci la notte della Focalenzia, considerando il record di affluenza nel centro storico di Castelfranci, visitatori attratti dalle luminari e dai colori, dall'enocastronomia e dalla caratteristica dei vicoli di Castelfranci. Il paese della ridente Irpinia continua a far parlare di sé in modo positivo. Una prima importante degustazione dei vini italiani copre il Palazzo Vittoli, in cui si è voluto porre l'accento sulle caratteristiche dei vini più importanti, come afferma Gerardo Perillo, coordinatore Sud Fisar. Siamo dall'Aianico Base, che è un doccherpinia, al Campi Taurasini, che è una zona ristretta del Taurasi, e poi i tre Taurasi... Successivamente il convegno al Palazzo Municipale dal titolo Aianico, passato, presente e futuro, dove il sindaco Generoso Cresta possa in essere non solo la storia del prodotto, che ha offerto infinita ricchezza al territorio, ma soprattutto evidenziato che Castelfranci potrà essere in futuro un luogo accademico e divulgare la cultura enologica, proponendo di istituire la sede periferica dell'agrario a Castelfranci. Dopo la splendida introduzione di Gerardo Perillo, moderatore in cui ha rigarato la dose sull'affezione da parte dei cittadini di Castelfranci verso il proprio comune, e quindi la difesa del proprio territorio e delle proprie radici, è stata subito la volta della presenza eccellente di Piero Mastro Berardino, della Mastro Berardino Spa, in cui ha rimarcato che non bisogna inventare una storia, ma la storia del vino a Castelfranci esiste ed è realtà ed è patrimonio di tutti. In quel caso Mastro Berardino ha ricordato che il 1968 è stata una vendemmia più celebrata a livello mondiale. Per Girolamo Giacquinto, in rappresentanza del presidente della provincia di Avellino, Gamba Corta, nel modello enologico creato a Castelfranci, il vino diventa l'elemento fondamentale per vivere, è determinante per radicare la tradizione del territorio e creare anche un'attività imprenditoriale, quindi rappresenta il fulcro della propria vita quotidiana. I pianti di Milena Pepe assumono davvero un significato morale per il vino e sostiene fortemente che i cittadini di Castelfranci si sono sempre impegnati al massimo per tutelare il marchio, il prodotto, a difesa del proprio territorio. Francesco Raffaele, della Prologo di Castelfranci, ha evidenziato che il settore vinicolo è l'unico in campo agricolo a resistere alla crisi economica conciunturale e offre alternative di lavoro, pertanto ha la potenzialità di evitare spopolamenti. Il presidente del consorzio di tutela dei vini irpini, Stefano Di Marzo, ha ipotizzato che per tutelare il settore è necessario salvaguardare il territorio da disastri ecologici. L'intervento del giornalista Il Fatto Quotidiano, Carlo Tecce, ha mirato su un turismo a largo raggio, ponendo in essere che il turismo a Castelfranci non deve essere un mordi e fuggi, ma bensì le aziende devono investire sul territorio affinché ci sia un turismo enogastronomico ben definito. Nelle conclusioni, il giornalista del Quotidiano Il Mattino, Luciano Pignataro, ha sostenuto che rispetto a 25 anni fa il vino campano ha fatto passi da gigante ed oggi il sistema enologico punta su un valore assoluto del vino attribuito al tridente bianco, falanghina, fiano e greco.